decisissimo o poveri leoni allora ritenta sarei più fortunato perché se chi che fosse una volta certo c'è questo qua ciao sai che quasi quasi è davvero meglio venire su di qua e poi ti fermi sulla pianta e va a far un bagno perlomeno c'è una pianta che mi ferma qua porca loca se sbagli passi giù spengo?